Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale, oggi presentiamo un bellissimo saggio appena pubblicato da Leo Orski, dal titolo Contadini e proprietari nelle grandi aziende agrarie toscane, tardo medioevo, prima età moderna, a cura di Francesco Borghero e Sergio Tonetti, che abbiamo il piacere di avere entrambi i nostri graditi ospiti perché ci parlino di questo interessante volume, quindi come mia abitudine io non rubo altro tempo e lascio subito la parola ai miei ospiti, prego a voi. Grazie, allora inizio io con un discorso più di carattere generale, poi Francesco molto brevemente illustrerà i singoli saggi, intanto faccio vedere la copertina del volume, le copertine oschi sono sempre molto belle, molto preziose, molto rifinite. Allora questo volume, Contadini e proprietari nelle grandi aziende toscane, deriva da un convegno che si è svolto all'Accademia Valdarnese del Poggio, di cui è il presidente Lorenzo Tanzini, che ha già avuto modo di presentare un volume con questa forma. Questo convegno si è tenuto nell'ottobre del 2023 ed è stato organizzato dalla Deputazione di Storia Patria per la Toscana, perché questo volume, come il convegno, rientra in un progetto biennale che vede la partecipazione di varie deputazioni italiane e il titolo del progetto è I contadini italiani dal tardo medioevo all'unità, percorsi di ricerca e aree a confronto. Ora questo progetto, e nello specifico il convegno di Montevarchi, si propone di riprendere in mano un vecchio dossier della storiografia italiana, soprattutto di età moderna e medievale. Infatti il titolo rimanda una storia di eco di un lavoro di Giorgio Giorgetti degli anni settanta e un convegno poi costumo che lo ricordava, perché queste tematiche, cioè il paesaggio agrario e le sue trasformazioni, la configurazione della grande proprietà, le forme di conduzione della terra, l'evoluzione dei canoni fondiari e i rapporti più o meno conflittuali tra contadini e proprietari, sono temi che erano stati una sorta di cavallo di battaglia della medievistica e della modernistica negli anni sessanta, settanta e ottanta, quando la storia agraria aveva avuto un vero e proprio boom in Italia. Stiamo parlando, in riferimento alle tematiche che ho appena citato, di argomenti che rimandano alla struttura portante delle società e delle economie di anzien regime. Ora, nel caso toscano, lo studio dei contadini, dei proprietari, delle forme di conduzione della terra, del paesaggio agrario, si avvantaggia in maniera considerevole dai grandi depositi conservati negli archivi, soprattutto di Stato, ma non solo. Questo significa per l'età tardo-medievale e rinascimentale lavorare su una ricchissima documentazione notarile, su documentazione di natura fiscale, pensiamo ai grandi catasti toscani del Quattrocento e soprattutto su documentazione di natura più o meno privata, quindi memoriali, inventari e soprattutto tanti libri contabili, libri contabili posseduti da privati, da famiglie, da monasteri, da conventi, da opere del Duomo, da capitoli della cattedrale e via dicendo. Quindi questo convegno riprendeva un tema classico della medievistica e della modernistica del Novecento. Faccio qualche nome solo per ricordare quali sono stati gli studiosi più importanti da questo punto di vista. Uno, indubbiamente, su tutti, Philip Jones. Philip Jones, autore di tanti saggi di storia agraria dell'Italia medievale e che ha scritto poi fondamentalmente la storia economica dell'Italia all'interno della grande collana dell'Einaudi, quindi la storia economica dell'Italia medievale nella storia dell'Italia in Audi era opera di Philip Jones, grande studioso britannico, ma poi si potrebbero fare i nomi di studiosi italiani come Mario Mirri, Giorgio Giorgetti, che abbiamo citato prima, Elio Conti, Elio Conti veramente un pioniere nella storia agraria, del paesaggio agrario di età medievale e moderna, Charles de la Roncière, Giovanni Cherubini, Giuliano Pinto, che è l'attuale direttore della deputazione di storia patria per la Toscana e poi altri ancora, Gabriella Piccini, Alfio Cortonesi e via dicendo. Ora, questo convegno ha voluto riprendere questo tema importante della storia agraria, del paesaggio, dei rapporti tra contadini e proprietari, perché negli ultimi decenni è successo che questo argomento qui è finito, per così dire, un po' nel dimenticatoio e questo fa parte, vuol dire, di quello che è accaduto alla storia economica e sociale in Italia e non solo in Italia, perché il fenomeno riguarda un po' tutta l'Europa, negli ultimi 3-4 decenni. È come se gli argomenti di storia economica si fossero quasi dileguati. Però, mentre noi facevamo questo convegno, sono apparse due monografie non di ambito toscano, e questo è un bene, così c'è un ventaglio più ampio di ricerche, proprio inerenti il mondo contadino e il mondo delle campagne. Cito a questo proposito un volume di Tommaso Pidal, un giovane studioso, il cui titolo è Grano Amaro, lavoro contadino nell'Italia Nord Orientale, secoli XIII-XV, edito da Forum Udine, e l'altro lavoro è quello di Filippo Ribani, il cui libro si intitola Furti e Insurti, il conflitto città-campagna tra immaginario e realtà nell'Italia, tardo-medievale, con un focus soprattutto per l'area emiliana, questo volume è uscito con Viella. Quindi possiamo essere abbastanza soddisfatti del fatto che queste ricerche di storia agraria negli ultimi due o tre anni stiano un po' tornando alla ribalta. Ora, e qui termino con il mio intervento, io oltre a curare il volume e l'organizzazione del convegno, ho svolto anche, come dire, un intervento mio, personale, all'interno del libro, un contributo dedicato alle terre e ai contadini della Badia Fiorentina. La Badia Fiorentina è il monastero urbano più importante di Firenze, citato anche da Dante nella Commedia, insomma. Terre, contadine della Badia, analizzati per i decenni centrali del Quattrocento, perché in questo periodo noi disponiamo di ben due inventari, ricchissimi, inventari proprio di beni immobili, oltre che immobili, e poi di libri mastri in partita doppia, quindi veramente registri ricchissimi, dove ci sono tutti questi conti correnti intestati a mezzadri, fittavoli, libellari e via dicendo. Ora, qual è stato l'obiettivo del mio intervento? L'obiettivo è stato quello non solo di illuminare sui rapporti contrattuali della Badia con i contadini e quindi di far vedere la differenza tra la proprietà ecclesiastica e quella laica quanto a criteri gestionali, ma anche di mettere in luce, e questo si vede bene da alcune scritture contabili, come la proprietà ecclesiastica non solo abbia criteri gestionali, tra virgolette, inferiditoriali parzialmente differenti rispetto al mondo laico, ma anche abbia un approccio peculiare nel rapportarsi ai bisogni e alle necessità dei loro contadini e questo viene fuori in particolar modo con i contadini tra virgolette fidelizzati, cioè con i contadini che lavorano per 20-30 anni su un fondo e poi lasciano la terra al figlio per esempio. Ecco lì emergono degli elementi, un lessico, magari sarà anche un po' apologetico, magari sarà un po' assolutorio da un certo punto di vista, però il lessico va a trasparire come dire che esistono degli scrupoli morali nello sfruttare fino in fondo il lavoro contadino. Ecco, quindi mi interessava anche sottolineare questo aspetto, non c'è una differenza soltanto di criteri gestionali, cioè si fa l'utile o non si fa l'utile o quanto utile si fa, ma anche nell'utilizzo nello sfruttamento del lavoro, del lavoro umano. Ecco, quindi chiudo qui il mio intervento e lascio la parola invece al collega Francesco Borghero. Grazie. Grazie Sergio e un rinnovato ringraziamento a Maurizio Calì, nonché alla redazione di Italia Medievale, per questo cortese gradito invito a presentare questo volume miscellaneo, pubblicato poche settimane fa per i tipi della casa editrice Olski, appunto curato da me e dal professor Tognetti. Dunque, per quanto riguarda i contenuti, il libro ha inteso, lo abbiamo detto, indagare i rapporti tra contadini e proprietari all'interno di una serie di grandi aziende agrarie della Toscana, alcune delle quali mai oggetto sinora peraltro di studi sistematici. L'obiettivo è stato esplorare le specificità dei rapporti tra i padroni e i loro coltivatori, appunto all'interno di complessi patrimoniali vasti, poi si può discutere appunto sul concetto di grande proprietà fondiaria e viene fatto nel volume, soprattutto in sede di conclusioni, nonché le peculiarità tra i diversi tipi di proprietà rifondiarie e diversi contesti cronologici e geografici. Quattro saggi hanno per oggetto all'interno del volume proprietà ecclesiastiche, da una parte le terre del capitolo della Cattedrale di Firenze e del capitolo del Duomo di Siena, rispettivamente studiate da Francesco Borghero, dal sottoscritto e da Andrea Pesare, dall'altra le terre della Badia Fiorentina e della Bazzia Cistercense di Settimo, rispettivamente indagate, lo si è detto, da Sergio Tognetti e da Andrea Barlucchi nel caso di Settimo. Due interventi riguardano invece proprietà laiche, nello specifico le terre dei Medici e dei Serristori, rispettivamente oggetto dei contributi di Paolo Nanni e di Andrea Zagli. Un saggio riguarda in ultimo un piccolo territorio signorile, quello dei Barbolani da Montauto in Valtiberina, che è oggetto dello studio di Gian Paolo Scharf. Sotto il punto di vista cronologico, due relazioni sono incentrate sulla prima metà del Trecento e rispettivamente lo studio di Barlucchi sulla Bazzia di Settimo e quello di Scharf sulle terre dei Barbolani da Montauto. Quattro relazioni riguardano invece il Trecento, contributi di Borbero e Pesari sui capitoli delle Cattedrali di Firenze e Siena, lo studio di Tognetti sulla Badia Fiorentina, il lavoro di Nanni sulle fattorie dei Medici. Andrea Zagli invece si è occupato, lo si è detto, delle fattorie dei Serristori in Valdambra nel Tardo 600. Passando al punto di vista invece geografico, i saggi del volume sono corredati innanzitutto da un apparato di mappe e riguardo alle localizzazioni queste spaziano dalle proprietà prevalentemente urbane e suburbane, nel caso dei capitoli delle cattedrali di Siena e di Firenze, della Badia Fiorentina e di quella di Settimo. Si passa poi alle fattorie Medici in Mugello, a quelle in Valdarno, Valdichiane e Valdambra dei Serristori, sino appunto alla Microsignoria in Valtiberina, tra Borgo Sansepolcro e Città di Castello, dei Barbolani da Montauto. Riguardo alle fonti documentali impiegate, professor Tognetti lo ha accennato, oltre alle scritture amministrative, fiscali e contabili, in alcuni casi particolarmente abbondanti, in altri irrimediabilmente carenti, campeggia, lo sottolineo, la novità rispetto alla precedente storiografia dell'utilizzazione, quantomeno ad ampio raggio, delle fonti notarili, sia quanto ai notai pubblici che operavano nei luoghi oggetto di indagine, sia quanto ai notai attivi per gli enti laici ed ecclesiastici. Emergono inoltre le scritture di tipo giudiziario e infra giudiziario, pervenute in vario modo negli archivi ecclesiastici, privati e notarili, oltre che nei fondi diplomatici. Passando ai singoli saggi, molto brevemente, il volume prende le mosse dal contributo di Giampaolo Scharf su una realtà signorile del primo 300, quella dei Barbolani da Montauto, appunto radicata in un'area circoscritta dell'Alta Valtiberina, più o meno a metà strada tra Sansepolcro e Arezzo, rapporti con una serie di vassalli, fittavoli e censuari che sono in qualche modo fotografati da un dossier di pergamene relativa a una complessa divisione patrimoniale tra i vari rami del lignaggio signorile. Segue il contributo di Andrea Barlucchi, dove l'orizzonte si sposta nella porzione occidentale del contado fiorentino, lungo la sponda sinistra dell'Arno, con l'analisi dell'immenso, possiamo definirlo, patrimonio fondiario dell'abbazia cistercense di Settimo e dei rapporti contrattuali instaurati tra il Cenobbio e i suoi contadini nei decenni precedenti, la Peste Nera. La gestione delle proprietà fondiarie dei capitoli delle cattedrali, quindi del Collegio dei Canonici di Firenze e di Siena, fra 3 e 400, è invece oggetto dei contributi, lo si è detto, del sottoscritto e di Andrea Pesare, ed è indagata a partire da una griglia interpretativa ed epistemologica sostanzialmente simile, ma, e questo io penso sia molto interessante, confrontandosi con un panorama documentario assai diverso, sia per qualità che per quantità del materiale conservatosi. Le terre e i contadini del Maggiore Monastero Fiorentino del Quattrocento, ovvero l'abbadia fiorentina studiata da Sergio Tonietti e della famiglia dominante nella Firenze del Quindicesimo secolo, ovvero i medici, indagati da Paolo Nanni, forniscono invece ulteriori dati per valutare, da un lato, la penetrazione della proprietà terriera cittadina nelle campagne della Toscana, un tema classico degli studi di storia agraria nell'area della Tuscia medievale, e dall'altro per mettere a confronto l'ottica imprenditoriale, lo abbiamo accennato, tipicamente laiche mercantile, con quella apparentemente più conservatrice, apparentemente sottolineo, e ispirata comunque da altri principi di un ente religioso. Infine, un lungo e corposo contributo di Andrea Zagli è dedicato all'analisi del funzionamento delle grandi fattorie dei nobili serristori nel Valdarno Superiore, nella Valdichiana del Seicento, in un contesto, in questo caso, di piena affermazione della mezzabria poderale e di contestuale trasformazione socio-economica del patriziato in età oramai granducale. In ultimo, lo sottolineo, le belle e dense conclusioni di Maria Ginatempo tirano le fila del discorso, ponendo alcune questioni e proponendo varie comparazioni sulla configurazione appunto dei grandi patrimoni fondiari, sul tema della signoria rurale e delle sue trasformazioni nel basso e tardo medioevo, questo è un tema peraltro oggetto di recenti e importanti progetti di ricerca su scala nazionale, sulla società comitatina, sull'evoluzione dei canoni fondiari, nonché, lo abbiamo accennato, sui pregiudizi e gli schemi che potremmo definire economicistici con cui spesso in passato sono state valutate le differenti forme di gestione e conduzione delle terre. Quindi in chiusura, per lungo tempo trascurato dalle recenti tendenze storiografiche, l'universo agrario emerge invece, lo abbiamo detto, come la struttura portante delle società tardo medievali e di antico regime e mi permetto di dire l'auspicio ultimo di questo lavoro è che quei grandi risultati della grande stagione di studi di storia agraria, alla quale abbiamo fatto accenno in apertura di questa presentazione, vengano ripresi, discussi, approfonditi con nuove ricerche in base a nuove domande, le domande del presente che noi poniamo al passato e anche rinnovate fonti documentarie. Io chiudo e vi ringrazio ulteriormente. Beh, io ringrazio voi perché non solo perché avete aderito al nostro invito di presentare questo saggio, ma perché ne siete stati anche i curatori, un bellissimo e interessante lavoro che attraversa, diciamo, il periodo dal basso medioevo alla prima età moderna e che sicuramente ci aiuta a comprendere molte delle dinamiche e dei rapporti tra autorità laiche, autorità religiose, tra proprietari terrieri e la loro manovalanza, chiamiamola così, e i contadini, che non sono così sotto i fari dei riflettori come lo sono i cavalieri, i duellanti e quant'altro, ma costituiscono la base e l'essenza primordiale di chi dà da mangiare a tutti gli altri, insomma, poi in sostanza. Detto in parole è molto povere. Quindi io mi auguro che corrano tutti in libreria ad acquistare questo volume, di cui ricordo il titolo, Contadini e proprietari nelle grandi aziende agrarie toscane. Tardo medioevo, prima età moderna, appena pubblicato per i tipi di oschi, a cura di Francesco Borgheri e Sergio Tonietti, che abbiamo avuto il grande piacere di avere i nostri graditi ospiti, che io ringrazio tantissimo ancora. Grazie. Grazie, grazie. Grazie ancora.